Ciao ragazzi, allora, piovere ha piovuto quasi tutta la notte, ma fortunatamente adesso ha smesso. Allora sono qui con i due cagnoni, aiai, guarda, mi hanno già dato una botta, che si vogliono, eh? Cosa volete fare? Allora, oggi vi voglio parlare di quello che è il quinto effetto collaterale, che secondo me è uno dei più importanti se voi, appunto, fate il percorso per diventare consulenti cinofili per cani da guardia. Allora, questo effetto è che diventerete dei professionisti cinofili, almeno per cosa riguarda i cani di forte carattere. Questo ovviamente non significa che facendo il corso base e poi questa giornata di specializzazione da domani saprete tutto, perché tutto non si può mai sapere, ma acquisirete delle competenze, o meglio, le competenze base necessarie per poter capire come vanno trattati in modo adeguato i cani di forte carattere. Ad esempio qua c'è Puma, che lui viene qua vicino perché mi vuole tenere compagnia. Ecco, quindi diventare dei professionisti cinofili per cani da guardia significa riuscire a iniziare con il proprio cane, se voi siete dei privati, un percorso adeguato e scoprire, o meglio, acquisire delle competenze senza le quali è molto difficile, ammesso che il cane sia poi forte carattere, non sia poi solo di forte carattere che voi immaginate, ma abbia poi quel carattere necessario per evitarvi le intrusioni, quindi iniziare questo percorso necessario per poter continuare sempre una convivenza felice con i vostri animali, perché non c'è niente più dispiacevole di fregarsene di quelle che sono le regole, andare avanti mediamente due anni si dura, poi a due anni arrivano tutti i nodi al pettine, e che cos'è che fanno la maggior parte delle persone cercano, in fretta e fuori è una sistemazione per i cani e quindi ci rimettono gli animali, ma ci rimettete anche voi, non solo dei soldi che avete speso, il tempo che avete investito, ma anche perché molti si erano affezionati all'animale, quindi soffrono non poco a vedere che l'animale deve lasciare la proprietà, invece al 100%, se voi partite col piede giusto, se voi questo rapporto che tutti i cuccioli hanno all'inizio pacifico con i loro proprietari, riuscite a coltivare questa fiducia che il cane deve maturare con voi e dovete adottare delle regole, dei sistemi che non sono quelli che vi può dire il vostro buonsenso, il vostro buonsenso da uomini non c'entra niente con cosa vogliono i cani da voi, amare il cane per essere amati, lì sono cose che van bene perché i cani da appartamento e invece è molto importante dare al cane quello che lui in qualità di animale cerca, quindi questo quinto effetto collaterale, benefico, e che voi se andate a vedervi i filmati precedenti scoprite anche gli altri, che acquisirete se vi preparate per venire questa giornata il 26 di maggio qui a Peveragno che facciamo questa giornata di specializzazione, è quella di diventare dei professionisti cinofili per cosa riguarda il cane a guardia e questo appello è rivolto anche a tutti quelli che già lavorano con i cani, perché come vi ho già detto in altri filmati, insegnare delle cose ai cani quando le accettano, quelli sono capaci tutti, cioè riuscire a trovare un accordo, a più o meno costringere i cani, a fare determinati percorsi, quando il cane accetta, quando il cane non si ribella, quello non ci vuole tanta scienza, cioè basta capire la tecnica, ma continuare poi con un cane quando si ribella o magari riuscire a ripristinare il rapporto dopo che il cane ha morsicato voi, ha morsicato il vostro cliente, vi assicuro che se voi non siete in possesso di alcune competenze non sarete in grado di dare questa assistenza e stessa cosa voi se siete proprietari per evitare che avvenga questo o per capire come potete fare a recuperare un rapporto, quando per i vostri errori magari si potrebbe essere logorato o magari siete in fase di deterioramento è assolutamente ben importante. Pumas non è troppo interessato a questa cosa, è molto interessato che adesso mi dia da fare e gli dia da mangiare, è vero? Quindi quello che vi voglio dire è che questi cinque effetti collaterali benefici sono questo valore aggiunto alla normale cultura cinofila che acquisirete, sul quale voi ci potrete contare. Sapere come va trattato, come bisogna relazionarsi, come va migliorato il rapporto con un cane di forte carattere e ciò che vi darà molta sicurezza a voi proprietari di cani perché alleverete il cane fin da cucciolo con la garanzia al 100% che praticamente il cane non potrà mai ribellarsi contro di voi e contro nessuno dei familiari, ma specialmente se voi fate questo di professione, ovvio che vi darà la garanzia di esercitare la vostra professione in modo migliore indipendentemente da quale disciplina voi vi dedicate perché qualsiasi cane di qualsiasi razza se nasce con un carattere diciamo un pochino più irriducibile farà molta fatica ad accettare determinate cose che magari vi potranno servire per far lavorare il cane nel settore in cui siete specializzati e sapere come si può, come dire, trovare una buona relazione col cane di forte carattere è veramente importante. Bene, con questo vi lascio, vi invito se non l'avete ancora fatto andare a vedere la diretta che abbiamo fatto noi ieri sera, l'ho pubblicata anche su youtube perché abbiamo iniziato come prima parte una cosa molto importante, che cos'è che ci può far considerare degli eccellenti proprietari di cani oppure retrocedere, essere solo mediocri per arrivare ad essere padroni scarsi per non dire pessimi, questo è molto importante perché proprio da ciò che pensa il cane di noi come proprietario, come persona che gestisse la sua vita che possono poi scaturire tutti questi spiacevoli incidenti che quando meno ce lo aspettiamo, leggiamo sul giornale ci riescono ad inquietare sempre un po'. Invece tutto questo si può evitare al 100% se voi partite col piede giusto e acquisite determinate competenze senza le quali diventa un po' difficile riuscire a poter convivere bene con determinate tipologie di cani. Bene, vi ringrazio di avermi ascoltato e vi auguro una buona giornata. Ciao ragazzi, a presto!